Sono affamati, vogliono solo giocare, fare quello che fanno tutti i bambini. Anche perché loro la sofferenza la conoscono già da tempo. Non hanno né una mamma né un papà. Fino a pochi giorni fa vivevano negli orfanotropi di Kiev, Odessa e Kharkiv. Con i bombardamenti sono stati costretti a fare le valigie scappare. Sono stati accolti qui in Polonia, all'osso hotel di Rava Mazzowieccia, a un'ottantina di chilometri a sud-ovest da Barsavia. Anche Elena arriva dall'Ucraina e si occupa di questi piccoli rifugiati. I bambini chiedono cosa sta succedendo, quando finirà, cosa accadrà. Loro hanno paura e noi abbiamo paura e non abbiamo risposte, dice Elena, che aggiunge. Non sappiamo cosa accadrà domani, non sappiamo cosa accadrà tra un'ora. Abbiamo paura per noi stessi, per i bambini. Abbiamo paura, ripete. Elena racconta poi del suono delle sirene, di quanto sia stato spaventoso fuggire nei bunker con i bambini. Bogdan arriva da Odessa e spiega che quando tutto è iniziato erano nell'orfanotrofio. Il primo giorno di guerra siamo stati svegliati alle 5.30 da un'esplosione, dice, e quando le esplosioni sono aumentate siamo stati immediatamente raccolti ed evacuati in un asilo vicino. Nell'osso hotel sono arrivati circa 700 orfani e il presidente, che gestisce il centro, assicura che rimarranno qui fino a quando ne avranno bisogno. Chissà fino a quando.